guardalo con che ginnicità passa in mezzo la rete colpo del falco ok stiamo rimuovendo la vecchia rete perché stiamo rifacendo la base qui stiamo tagliando tutta l'erbetta guarda con quanta passione stai divertendo? tantissimo è il lavoro più bello della vita è il lavoro più bello della vita mi sembra che ci sia un po' di ironia nelle sue parole attenzione qua abbiamo avuto questo inverno è venuto giù una pianta qua bisogna intervenire cosa facciamo? bisogna tagliarlo con la motosega vai a prendere la motosega esito non hai visto nulla è il lavoro più bello della vita e due no no si è salvato